La vecchiaia può imparare dalla saggezza ironica del Coelet, l'arte di portare alla luce l'inganno nascosto nel delirio di una verità della mente priva di affetti per la giustizia. Gli anziani, ricchi di saggezza e di umorismo, fanno tanto bene ai giovani. Gli salvano dalla tentazione di una conoscenza del mondo triste e priva di sapienza della vita. E anche questi anziani riportano ai giovani alla promessa di Gesù. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati. Saranno loro a seminare fame e sete di giustizia nei giovani. Coraggio, tutti noi anziani, coraggio e avanti. Noi abbiamo una missione molto grande nel mondo.